La provincia di Brindisi si conferma l'unica della Puglia in cui si continua a registrare un incremento quotidiano di casi di positività al coronavirus, del tutto anomalo rispetto a quanto accade nelle altre province pugliesi. Stando a quelli che è il bollettino delle ultime 24 ore divulgato dalla regione, nel Brindisino si registrano 6 nuovi contagi, quasi la metà dei 13 nuovi contagi registrati complessivamente in Puglia. Su 2061 teste effettuate nelle ultime 24 ore. Altro dato che fa riflettere è quello dei decessi nel Brindisino, nelle ultime 24 ore sono morte altre due persone con coronavirus. I 13 contagi sono così suddivisi, 1 nella provincia di Bari, 2 nella provincia Abat, 6 nella provincia di Brindisi, 2 nella provincia di Foggia, 0 nella provincia di Lecce, 1 nella provincia di Taranto. Per un caso è in corso l'attribuzione della relativa provincia di appartenenza. Sono stati registrati 5 decessi, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 95.895 test. Sono 2.027 invece i pazienti guariti. Sale a 478 il numero delle persone decedute per un indice di mortalità pari al 10,8%. I casi attualmente positivi sono 1.902. Il totale dei casi positivi covid in Puglia nell'inizio della pandemia sono 4.407, così divisi 1.443 nella provincia di Bari, 383 nella provincia Abat, 635 nella provincia di Brindisi, 1.131 nella provincia di Foggia, 509 nella provincia di Lecce, 276 nella provincia di Taranto. 28 sono i casi attribuiti a residenti fuori regione, 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.